In fondo al mar, in fondo al mar, tutto bagnato è molto meglio, credi a me. Quelli lassù che scoppano, sotto quel sole sveggono, mentre col muoto ce la spassiamo in fondo al mar. Però devo dire che sono super orgoglioso di rappresentare Sebastian in questo live action perché è stato uno di quelli che ha fatto sognare generazioni e generazioni, soprattutto qui nel nostro paese, che siamo comunque in un modo o nell'altro affacciati al mare in tutti i sensi. Sì, soprattutto nel mio caso è stato incredibile aver fatto l'audizione sia per il parlato che per il cantato e essere stato scelto per entrambe. Devo dire che è stato un onore, anche un po' un certo senso di responsabilità ho avuto perché, come il sogno me l'aveva regalato il Sebastian del cartone, io voglio assolutamente regalarlo alle generazioni che verranno, quindi mi sono molto impersonificato nel personaggio, ecco. E ti spaventano le critiche di chi magari giudica senza aver prima visto il risultato? No, no, perché comunque di base, cioè io sono Sebastian, quindi sono critiche che non hanno senso, no capito? Quando ti senti tanto granchio, niente ti può scalfire. Senti, ma di questo personaggio ti piace più quel suo lato di consigliere pasticcione o di amico fedele di Ariel? Ma a tutte e due, a me mi piace quando sta esaurito, quando sta felice, quando sta col cuore tenero, quando sta nervoso, cioè ci sono talmente tanti lati del carattere di Sebastian che anche che mi rappresentano, no, un po', che io lo amo sempre. Nel doppiarlo ti sei ispirato al doppiatore originale del cartone Ronnie Grant oppure ti sei basato più sulla versione originale americana di David Diggs? Ma guarda, posso dire, è tutto un mix di cose, perché comunque vuoi o non vuoi dovevamo seguire il parlato del nuovo appunto doppiatore americano, no? Però il ricordo che ho di Sebastian è talmente forte che vuoi o non vuoi qualcosa esce ogni volta che dovevi dire una frase con la sua voce. Quindi io credo ci sia proprio un mix di… cioè che alla fine sia proprio uscito il granchio che c'avevo dentro, capito? Un po' così. Quindi concludo con un piccolo quiz, botta e risposta, sulle tue preferenze cartoni Disney. Sì. Allora, se dovessi scegliere, Carica dei 101 o Aristogatti? Aristogatti. Così, proprio bruciabelo, quello che ti viene in mente per prima. Sì, Aristogatti. La bella e la bestia o Aladin? Aladin. Gobbo di Notre Dame o Dumbo? Eh, Gobbo di Notre Dame. Spada nella roccia o Robin Hood? Ah, no, pari tutte e due. Cioè io li amavo tantissimo tutte e due. Cioè Spada nella roccia e Robin Hood per me è stesso livello. Cioè è proprio stesso amore. Tarzan o Mulan? No, zio, come fai però? Cioè non puoi mettere quelli forti vicini, devi metterne comunque… Eh, Tarzan o Mulan, Mulan. Però una Tarzan spana. Ultima. Mulan, Mulan però. Hercules. Hercules oppo Gaontas. Hercules. Grazie mille. Bella questa cosa però. Speriamo me la facciano anche altri botte risposta top. Ciao.